Parte questa mattina dall'ospedale di Pesaro il primo di altri presidi che si terranno anche a Fano e Urbino. Si radunano qua i sindacati degli operatori della sanità territoriale, operatori della sanità a rischio, circa 200 posti di lavoro al 31 dicembre potrebbero non essere più garantiti. Questo alle porte della nuova riforma sanitaria che cambierà anche le aziende sanitarie. Dal gennaio 2023 sindacati riuniti con forza oggi a rivendicare i propri diritti, a chiedere le proroghe dei contratti, a chiedere la stabilizzazione del precariato. Noi siamo molto preoccupati perché oltre a perdere posti di lavoro il rischio di accorpamenti, di servizi, riduzione delle prestazioni sanitarie è molto alto. Quindi noi lo chiediamo con forza. I contratti di lavoro bisogna che vengano rinnovati. Parliamo di professionisti che sono stati formati in questa azienda e che hanno lavorato duramente sul covid. È una questione di dignità personale. I contratti devono essere rinnovati. Il primo di gennaio ci sarà una nuova azienda sanitaria in questa provincia. Noi non possiamo permetterci di perdere personale perché perdere personale vuol dire perdere i servizi. Noi abbiamo cercato in tutti i modi un confronto con le istituzioni per evidenziare le criticità che si potrebbero, che si andranno a verificare ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta a nessun confronto con le istituzioni. Solo il prefetto quando ci ha ricevuti per quello che è in suo potere si è preso carico delle nostre istanze. Qui stiamo mettendo a rischio non solo i lavoratori, i posti di lavoro ma tutta la sanità provinciale. Oggi è la prima giornata del settino che presidiamo su Pesaro ma proseguirà domani il 28 su Urbino e se ci sarà bisogno andremo ad inoltranza anche nel mese di dicembre. Quello che richiediamo è per i cittadini, per i lavoratori perché se i lavoratori non saranno presenti e entrano a casa innanzitutto ci saranno 200 famiglie che resteranno senza posti di lavoro. Oltretutto la cittadinanza avrà una riduzione delle prestazioni sanitarie quindi fortemente chiediamo che ci siano questi rinnovi dei contratti. Tra l'altro abbiamo anche verificato che il tetto di spesa per fare questa assunzione nel 2023 ci sono. Quindi chiediamo sia alle aziende ma alla regione di dare la deroga, la proroga per i contratti a tempo determinato.